Finalmente iniziamo, direi così, perché è stato rimandato un po' il campionato di due settimane, quindi abbiamo dovuto ritardare anche noi, e niente, si riparte con il massimo entusiasmo e massima voglia di fare bene. Tanti ragazzi arrivano dopo la bella cavalcata, ma anche la delusione della finale scudetto con la Roma con gli allievi. Sì, abbiamo un gruppo giovane, tanti 98, hanno fatto una grandissima annata secondo me l'anno scorso, però la delusione come detto te della finale gli deve dare quella voglia, quella carica in più di ripartire ancora meglio quest'anno. Gli obiettivi per l'annata? Gli obiettivi per quanto riguarda noi staff è quello di portare i ragazzi ad avere il più conoscenze possibili e cercare di colmare il gap che c'è tra primavera e prima squadra. Quindi far trovare dei ragazzi a fine anno più pronti per essere convocati in prima squadra.